Musica Bentornato Gutiel, bentornata Ora ci accingiamo ad attivare il sistema operativo Sarà stata una bella soddisfazione la lezione scorsa in quanto hai portato a termine la tua prima installazione di un sistema operativo Ora puoi iniziare a utilizzare il tuo computer ma comunque prima devi procedere ad un'altra operazione necessaria per completare il lavoro di installazione Cosa intendo? Il sistema operativo è sì installato e funzionante ma non è attivo Questo significa che dopo un certo periodo di tempo all'incirca di 30 giorni alcune funzionalità dello stesso non potranno essere utilizzate Questo perché se vai a vedere lo stato di attivazione noterai che ti sono rimasti al massimo 30 giorni per attivare il sistema operativo Per raggiungere questo stato di attivazione puoi seguire diversi percorsi ma normalmente sarà sufficiente accedere al pannello di controllo tramite Start andando ad individuare la sezione Sistema Nella schermata che si presenterà in basso troverai proprio questa notifica appena evidenziata Se è necessario seguire l'attivazione ovviamente dovrai procedere nella stessa ma comunque non sarà niente di preoccupante Questa situazione tra l'altro la potresti trovare anche nel caso in cui hai acquistato un computer che è privo di un sistema operativo Normalmente infatti il negozio dove acquisti il PC che è specializzato in generi informatici per testare la macchina che ha assemblato installa un sistema operativo dimostrativo e quindi hai una cosiddetta versione trial che ti fornisce la piena funzionalità per 30 giorni di tempo trascorso il quale se non hai acquistato la licenza una parte del sistema stesso non ti funzionerà quindi ti sarà necessario attivare il sistema La presenza di questa versione dimostrativa non ti deve creare ostacoli in quanto hai visto nelle lezioni precedenti come eseguire una formattazione di una o più partizioni e quindi cancellare eventuali sistemi operativi precedentemente installati giusto per conoscenza potessi proprio utilizzare il presente sistema operativo quindi la versione dimostrativa a tuo favore perché potrai utilizzarlo per un'attività didattica e sperimentare alcune opzioni quindi cambiare delle impostazioni e vedere come il sistema operativo reagisce a queste due nuove impostazioni detto questo comunque torniamo alla tua attivazione come detto dopo che hai installato la tua copia originale di Windows 7 hai tempo 30 giorni per attivarla la procedura di attivazione ti consente tra l'altro di verificare che la tua copia sia effettivamente originale una prima conferma comunque ce l'hai nel momento in cui lo acquisti tramite una scatola anche se diciamo che la versione da disco è un'opzione non molto commercializzata per la vendita di un sistema operativo soprattutto quando acquisti naturalmente un PC nuovo in quanto acquisterai già un PC verosimilmente con un sistema operativo installato quindi dicevo una prima conferma ce l'hai direttamente sulla scatola di acquisto in quanto la stessa presenterà un certificato di autenticità oppure potresti aver acquistato il sistema operativo online e quindi via possa riceverai la relativa certificazione il certificato di identità in realtà è una targhetta adesiva nella quale troverai in una zona il product key ossia il numero di serie della tua copia di Windows che è una stringa alfanumerica di 25 cifre che dovrai inserire all'atto dell'installazione o successivamente la targhetta appena evidenziata ti dà la quasi certezza che il sistema operativo che hai acquistato è originale la quasi certezza è d'obbliga perché potresti comunque anche se eventualità rara potresti incappare in qualche venditore che ti molla una copia apparentemente originale ma in realtà o contraffatta nella peggiore delle ipotesi oppure perché ha oltrepassato le limitazioni della licenza in uso cosa significa? potrebbe ad esempio avere acquistato lecitamente una copia originale del sistema operativo ma nelle condizioni d'uso può installare il sistema operativo su un numero limitato di computer ad esempio 10 oppure 100 e casualmente può aver installato la versione del sistema operativo su più computer se paghi la copia del sistema operativo deve essere originale quanto detto può accadere nel momento in cui acquisti un computer o un dispositivo portatile al cui interno è installato un sistema operativo venduto come originale a questo punto ti conviene fare le tue belle verifiche ed in caso contrario tornare dal venditore facendogli notare con assoluto carbo l'errore che avrà commesso certamente in maniera involontaria installando di una copia non originale o comunque che ha superato le sue limitazioni in buona fede comunque ci siamo capiti cosa intendo dire come devi eseguire l'attivazione diciamo subito una nota chiarificatrice non devi registrare la copia del software del programma del sistema operativo che è un'azione facoltativa che potrà fornirti un supporto tecnico o dei suggerimenti ma devi attivare la tua copia che è obbligatoria per l'utilizzo conforme alle condizioni di uso bene per attivare la copia hai due metodi o tramite internet online o tramite telefono a te la scelta innanzitutto per poterla attivare serve il numero di serie quindi il product key che penso ben conosci se vuoi attivarlo via internet dovrai eseguire una procedura online e quindi il tuo computer deve avere l'accesso alla rete per poterla portare a termine la procedura è molto semplice in quanto guidata o come dicono in inglese un wizard guidato dovrai cliccare con il pulsante sinistro del mouse su start che è quella scritta o quell'icona in basso a sinistra del monitor poi successivamente con il pulsante destro del mouse sulla scritta computer tra quelle che compariranno dal menu che si genera clicca ancora su proprietà con il pulsante a sinistro si aprirà questa schermata scorrendo in basso troverai appunto lo stato di attivazione che ti notifica che ti rimangono massimo 30 giorni per eseguire l'attivazione clicca naturalmente su questo pulsante per attivare il sistema operativo o meglio per iniziare la procedura di attivazione alcune differenze in quanto esposto potrebbero verificarsi in quanto la procedura dipende dal tipo di sistema operativo e anche dalla versione potresti ad esempio avere una schermata che ti evidenzia la necessità di selezionare un'attivazione online o via telefono in questo caso clicca sul pulsante attiva windows online ora se venisse richiesta una password inserisci quella che eventualmente hai precedentemente digitata oppure se non hai inserito alcuna password conferma semplicemente potrebbe esserti richiesta la necessità di inserire all'interno di questo campo il product key che è quello che abbiamo evidenziato sul certificato di autenticità dopo di che dovrai cliccare su avanti a questo punto il sistema eseguirà automaticamente le opportune verifiche del tuo seriale quindi del tuo product key che avrai inserito o durante l'installazione o nella schermata precedentemente evidenziata hai terminato se la tua copia originale e il numero di serie che hai inserito è corretto l'attivazione sarà portata a termine in quanto il sistema ha rilevato l'autenticità della copia come evidenziato in questa schermata l'autenticità della copia di Windows 7 ti permette di ricevere tutti gli aggiornamenti disponibili e il supporto fornito dalla Microsoft bene per poter eseguire l'attivazione della tua copia di Windows clicca su Start il pulsante in basso a sinistra successivamente sul pannello di controllo clicca su Sistema e Sicurezza e di nuovo su Sistema troverai lo stato di attivazione della tua copia di Windows un'alternativa al percorso è premere sempre su Start poi di nuovo sul pannello di controllo cambiare la visualizzazione dell'icone cliccando su questo pulsante e poi su icone piccole avrai a disposizione visualizzate tutte le impostazioni possibili su un'unica pagina clicca sempre su Sistema per accedere allo stato di attivazione della copia di Windows 7 come puoi ben vedere ti rimangono 30 giorni per eseguire l'attivazione clicca quindi su questo pulsante per avviare la procedura di attivazione in questa schermata potrai o selezionare il primo pulsante usa il sistema telefonico automatico per attivare oppure acquistare un nuovo product key oppure digita un altro codice product key in quanto in fase di installazione non ne avevi inserito alcuno ora nella zona di riferimento al centro inserisci i 25 caratteri che compongono il tuo product key dopo aver digitato tutto il product key clicca su Avanti in maniera automatica inizierà l'attivazione della tua copia di windows verificando l'autenticità del product key che ha inserito grazie ai server della microsoft questa procedura può durare qualche minuto e devi semplicemente attendere il suo termine se durante la procedura non si verifica alcun problema essa viene portata a termine con successo e avrai notificata l'avvenuta attivazione dopodiché dovrai cliccare sul pulsante chiudi per verificare ulteriormente lo stato di attivazione con il numero di serie corrispondente al product key precedentemente inserito nella prossima lezione vedremo l'alternativa telefonica per l'attivazione qualora non ti fosse possibile accedere ad internet ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima ciao a presto